non perdere il prossimo incontro speciale con insieme ce la faremo sono successe tante cose sui mercati dagli stati uniti all'europa anche al nostro paese affronteremo le implicazioni sociali ed economiche legate all'emergenza sanitaria con l'aiuto gli esperti che ci aiuteranno a capire cosa è successo nella psicologia degli italiani durante il covid e come siamo cambiati in questi mesi racconteremo l'esperienza di un grande imprenditore che con una visione positiva del futuro ha cambiato il suo modo di operare e quale sarà l'impatto di questa pandemia sulle nostre vite avendo sempre chiaro che il mondo è in crescita continua e ci sarà in futuro lo spazio per una ripresa economica sappiamo che chi investe nello sviluppo vince sempre certamente la tecnologia sta prendendo una spinta incredibile insieme ce la faremo il 15 luglio alle ore 21 segui l'evento sul canale 507 di sky e sulle pagine social di banca mediolano